Locandine, manifesti, colori sgargianti e parole libere. Il futurismo di carta arriva al Museo Salce di Treviso con una mostra dedicata a partire dal 28 ottobre. Tre le macro aree trattate che raccoglieranno circa 130 opere, dalla figura umana al mondo industriale fino ad arrivare a toccare il tema della cultura e società, con l'esposizione di manifesti pubblicitari realizzati dagli artisti per promuovere beni di consumo quotidiani. È una mostra sul futurismo, sì, è una mostra sul futurismo di carta, proprio perché è riferito a questa splendida collezione, e si dividerà in due momenti. Il primo comprenderà i manifesti dal 1915 circa al 1930. Il secondo momento, dal 1 marzo al 30 giugno, comprende i manifesti dal 1930 al 1940. Collezione Salce che sta già organizzando il calendario del prossimo triennio, anche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. In vista di quel periodo abbiamo l'idea di organizzare una mostra dedicata proprio alla neve e all'inverno. Questa stagione così cupa per la montagna, proviamo un po' a pensare cosa poteva voler dire un grigio, un lungo inverno in montagna con la neve, si trasforma invece, ma quasi magicamente, in un momento di estremo divertimento.